martedì 14 dicembre ariete prima di abbandonarvi la luna vi regala un pizzico di fortuna unendosi in se stile con giove trovare persone di cui vi potete fidare non è impossibile in questo periodo potreste aver bisogno di maggiore attenzioni affetto da parte di chiamate toro successo e fascino personale assicurato grazie alla luna che vi fa visita e agli ottimi rapporti con mercurio che da poco nell'amico capricorno la vostra visione delle cose è oculata e precisa non vi farete prendere in castagna tanto facilmente gemelli tornerete subito in pista dopo un breve momento di defaianza seguite il filo del discorso senza perdervi nastrosi e complicati ragionamenti rimediate ad una parola sbagliata con comportamenti gentili affabili guadagnerete molti punti cancro la vostra giornata scorre soave tranquilla senza spiacevoli intoppi merito della pacata luna in toro che vi guarda così benignamente non date energia a progetti campati in aria puntate sul concreto e non avrete proprio nulla da temere leone la lentezza estrema di alcuni colleghi con cui dovete collaborare potrebbe farvi andare fuori dai gangheri siate magnanimi con chiunque dovrete usare tutta la pazienza che avete alla fine tutto si risolverà presto per il meglio vedrete vergine costruirete nuove certezze dato che la luna è nel concreto toro all'inizio questo vi potrebbe destabilizzare un po ma niente di preoccupante superate brillantemente le prove a cui vi sottoporrete senza batter ciglio che sangue freddo bilancia quando un piccolo dubbio prende il sopravvento non state sulle spine cercate di scovare la verità con tutti i mezzi che avete a disposizione se un pizzico di gelosia potrebbe riaccendere la passione sopita esagerare potrebbe peggiorare le cose scorpione non è tuttoro quello che riluce si sa ma voi abbagliati dall'opposizione lunare potreste incappare in un evidente errore di valutazione meglio fare retromarcia e ammettere di aver sbagliato piuttosto che continuare ancora in perterriti sagittario sopperite con la fantasia e con la creatività di una giornata non proprio entusiasmante senza scaricare la colpa sui collaboratori sui vicini siete pronti ad assumervi qualche altra responsabilità a patto però di avere il vostro tornaconto capricorno prendete la palla al balzo e cogliete ogni proficua occasione che vi si presenterà grazie al trigono della luna con mercurio nel vostro segno potreste aver bisogno di qualche coccola in più non vergognatevi di fare questa richiesta al partner acquario non accontentatevi se avete la possibilità di ottenere dei risultati di rilievo e di chiedere anche qualcosa per voi d'altronde ciò che è giusto è giusto molti amici sono disposti a darvi una mano se soltanto farete loro capire di averne la necessità pesci bando all'indolenza e alla pigrizia metteteci grande impegno se volete davvero farvi notare il buongiorno si vede dal mattino in ogni caso dimostrate all'altro di tenere davvero alla costruzione di un solido e duraturo rapporto di coppia grazie a tutti grazie a tutti